Lì è la destra ora Marco c'è i piedi paralleli Ragazzi siete in due Cerca di non darvi fastidio per favore Ancora, sei in piedi Solo braccio Corta Luca le spalle Quattro Un po' curva Luca Un po' curva Un po' curva No, no, fai 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 No, no, fai 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 Allora, tutto Loro si chiamano allenare Loro sono qui coberto Un'ora e mezzo Loro si è con il cazzo Seconda cosa Come vi ho detto 680 milioni di volte I sinistri da destra Non possono Tagliare le palle Tagliare quasi 2 metri 08 Io non vedo nessuno Nessuno A me per 90 Ok Perciò la palla perfetta L'alzata di qua E questa Anche esattamente qua Ok Un brazzo di distanza Avete Più o meno Due palloni Dalla riga Tutte le palle Messe in posizione Diverse Sono sbagliate Non è che C'è una più o meno Sono sbagliate Se entrano In questa fascia Qua In questa Qua Uno non può fare altro Che una palla E' certa Solo quella D'entrata Un'alzata Che vale Di tutto Ok Tu non ti spostare Inizia il giro Va bene Per il campo E inizia A fare il buon scappo Andiamo Ora si che sta Guardi un po' Tuca le spalle Spolle Non ci correggere Con la gamba Non deve lo scavare Il cane Giulia No Le spalle Luca Il tuo problema principale Marco Sono corrette In traiettoria Ma Le spingi sempre Troppo Facendo questo Tutte le volte Usa il corpo Per spingerle Questo va bene Non è mai al limite Ancora le spalle Luca E sotto il pallone Quello mi piace Andre lancia un modo Perché se no Non ne usciamo mai Andiamo sotto il pallone Marco Luca le spalle Non ce la voglio più ripetere Questo va bene 9 Ancora Non puoi gestirla così È impossibile Non ce la posso fare io Perché tu devi farcela Ancora Le spalle Devo guardare Giulia Guardi continuamente la telecamera Guardare in giù Questa vi tegerà di più Perché stavi guardando Giulia Con le spalle Era nella giusta direzione Andre Mettiti in zona 5 Al centro E avvicinagli la palla Almeno a Due metri Da lì Gambe Oh Altra gamba Luca Devi correggere quel vizio lì Non c'è la pigrizia Se tu c'hai la sinistra avanti Hai sbagliato Devi correggere Da subito Istantaneamente Adesso sono troppo veloce Ma a questo mi piace Perché stai riflettendo Sull'errore Ingia col corpo Se non proietti la palla È un casino Ci siamo quasi Questa è la strada Tanto non è il problema di velocità Non è il problema di velocità Cosa fare avanti Incontri Da In 됩니다 Sperga Non è il problema di velocità Senti però quella è la giusta attesa quella strada è migliorata poi ci cento volte invece di sinistro con migliori un passo oh bellissimo come campo vieni parallelo è partito prima Luca questa va bene non la sbracciare questo va bene questo è il suo legame oh molto bene Marco la gamba è sbagliata Luca è importante perché riconosce l'errore se si ha gamba sbagliata il tuo gambe è ferma il pallone bravo Marco sono alzate molto dolce no questa fa schifo basta altra gamba bravissimo non mi interessa questa è corretta ah qui il campo ha sbagliato di nuovo anche la spinta delle gambe Luca Piedi per l'allel Abbraccio Palle Dunque devi mettere con l'energia lì in alto Non in avanti Dottor Pallone Detto l'istante Perché non hai il plan di velocità Lo faccio di essere Dottor Pallone 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 Dottor Pallone